no non 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 che sta andando indietro non 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 cos'è devo fare dai potresti lanciare una nuova moda tira di sire di cardi trasgressivo nooo l'argomento super guarda proprio alla vip non non dove adoressi dai i i i il popolo e poi per l'arco che foto per l'arco per l'arco per l'arco per l'arco per l'arco giorgia sei fantastica per l'arco siiii mio panino uuuuh ma la magna tutte le mie no ma la magna mia Michi guardami primo piano dai zio alla vipo dai no dai e questo davvero di nuovo di casa sto a fia a ridere cos'è mio panino guardami guardami guardami